buongiorno a tutti oggi è 5 novembre 2019 quello che sentite il rumore di una motosega e adesso mi giro qua professore in fondo abbiamo degli operai che stanno tagliando un albero qui siamo in via tonso quartiere europa un albero che ha fatto un po discutere sui giornali sui social ma non solo uno ne hanno battute almeno ne hanno tagliate due e questo è l'ultimo che è rimasto guardate guardate che dimensione anche è maestoso e rappresenta anche diciamo un'opera della natura notevole eppure anche questo farà una brutta fine ma perché farà una brutta fine spiegacelo un po' tu alessandro perché siamo arrivati a questa situazione così drastica dove piante dai 50 agli 80 anni no ma 50 anni ce li hanno tutti 50 anni li hanno sono state sono state abbattute perché siamo arrivati sono state innanzitutto buongiorno sono state abbattute perché non facendogli la manutenzione negli anni scorsi e ormai queste piante sono arrivati a un punto che stanno cedendo nel loro peso nella loro struttura perché non sono mai state diciamo così curate e adesso è arrivato il momento di abbatterle prima che che cadono da sole perché facciano dei danni una pianta quando non viene potata non viene curata poi dopo la natura si indebolisce e fa il suo corso e facendo così poi cominciano a cadere i rami qui come vediamo ci sono macchine siamo costretti ad abbatterle purtroppo ma purtroppo perché lasciano un vuoto che è abbastanza è un peccato perché sono un patrimonio della natura riprendi di nuovo vedete una pianta così anche tra l'altro pieno di avrebbero potuto mantenerla senza essere costretti poi a pagare facciamo presente professore che per abbattere queste piante sono stati effettuati dei sopralluoghi dei controlli da parte del personale preposto del verde pubblico quindi non è che li stanno tagliando così tanto per sì no il problema a questo punto se vogliamo dirla tutta è che i soldi che l'ATC ha risparmiato in 50 anni di mancate potature le ha spesi le ha spesi doppiamente in questo intervento che sta facendo e nel pagare i danni che alcune piante che sono cadute da sole hanno procurato all'automobili e altri beni quindi che cosa ci vuole dire ci vuole dire quello che ha detto alessandro se tu non fai la manutenzione quando la devi fare come ad esempio queste piante qua queste piante queste piante qua è chiaro che devono essere che devono essere fruttate tenute sotto controllo perché sennò faranno la fine di questo maestoso cos'è una cos'è una cosa è un acero campestre è un acero campestre questo maestoso volevi aggiungere qualcosa io volevo dare voce alla natura perché un albero non è che ha una voce che puoi dirvi dare non tagliate però adesso con questo nuovo diritto alla natura si dà una voce alla natura e grazie attraverso la nostra voce nel cercare di preservare la natura nella maniera più corretta non con maniera drattica perché anche queste povere piante non si possono appellare non hanno voce uno arriva e taglia e taglia e taglia e taglia di qua guardiamo in amazzonia non solo in amazzonia questa è una cosa ormai globale quindi bisogna dare voce alla natura e cercare di aiutarla e cercare di aiutarla puoi fare una ripresa magari dall'altra parte sul taglio che stiamo facendo ci mettiamo da questa parte qua va bene professor chiudiamo qua servizio speriamo che venga ripristinata vengono rimesse piante altrettanto importanti certamente ci vorranno altri 50 anni perché le piante che metteranno dimora possono dare e a questo punto si chiede che le piante messe a dimora vengano curate e non lasciate a se stesse concludi perfettamente così noi ci aspettiamo da chi è responsabile per la cura delle piante un certo tipo di lavoro che salvaguardi la natura del nostro ambiente perché ambienti dove non c'è alberi dove c'è natura c'è un deserto insomma poi le piante sono importanti preserviamole per preservare noi stessi benissimo va bene arrivederci un saluto a tutti svegliati alessandria